15 punto, benvenuti a Corriere Live, l'America di Trump, il problema o la percezione del problema mondiale della migrazione che sembra ormai decidere qualsiasi contesa elettorale, sia essa in Gran Bretagna oppure negli Stati Uniti, il problema dell'Europa, l'overdose di referendum nelle vene ideali dei cittadini italiani, di tutto questo parliamo oggi con Emma Bonino che ringraziamo tantissimo di essere qui con noi, con me a intervistare c'è PG Battista, non ha bisogno di ulteriori presentazioni, come non ha bisogno Alessandra Racchi che porterà a questo tavolo le domande che voi eventualmente vorrete porre a Emma Bonino, basta che le scrivete sul vostro hashtag, sul vostro profilo Twitter aggiungendo l'hashtag Corriere Live, innanzitutto come sta Bonino? La vedo, la vediamo molto bene. Seconda domanda, lei è stata anche commissario europeo, i giornali di oggi danno conto di questa strategia a cui danno un peso mediatico politico di Renzi in visa e referendum di prendere di mira l'Unione Europea, il rischio del veto dell'Italia sul bilancio e tutti la scrivono, una strategia pre-referendale, secondo lei un atteggiamento di questo genere è lungimirante, positivo o negativo? Dipende fin dove si regge, tenga conto che si intrecciano due questioni, una è la valutazione della Commissione Europea sul nostro bilancio 2017 e l'altra è invece la valutazione sul bilancio dell'Unione Europea, diciamo dal 2017-2020, cioè il pacchetto pluriannale. Ora, ieri l'Italia ha espresso una riserva, che poi voi avete tradotto a messo il veto, ma insomma ha espresso una riserva sul pacchetto pluriannale e lì poi si apre tutta una procedura di conciliazione, insomma di una situazione piuttosto complessa. Io ritengo sostanzialmente tre cose, la prima è che quando si fa la voce grossa, che magari è anche giusto, bisogna essere credibili e sapere reggere nel tempo, non è come dire una sfuriata, bisogna sapere reggere nel tempo. Trovo che qualche rilievo della Commissione Europea alla legge di bilancio nostro 2017 ha della sostanza, perché la legge 2017 prevede tutta una serie per esempio di spese correnti e di elargizioni che non sono esattamente investimenti, ha un aspetto un po' elettorale, diciamo così, e l'altra è la questione del bilancio pluriannale. Sul bilancio pluriannale anche lì bisogna che un Paese che si impone sia credibile nelle riforme che ha fatto. Noi siamo a metà della strada, quindi non so fin dove regge questa strategia che probabilmente è molto apprezzata in Italia, ma poi le istituzioni, perché poi noi sul bilancio, sulla parte pluriannale noi avevamo accettato la proposta della Commissione. Il problema è che il Consiglio ha tagliato tutta una parte che per l'Italia è rilevante, particolarmente sugli immigrati, sulla sicurezza, eccetera. Ma per essere credibili noi dovremmo fare la nostra parte, per esempio sugli immigrati, magari ne parliamo dopo, mettere un po' d'ordine, superare la Borsifini, chiudere il reato di clandestinità, avere una vera legge sull'integrazione rigorosa di diritti e doveri, mentre la gente è sempre più disorientata di vedere migliaia di persone, come dire, accampate nelle stazioni o dove sono, e gli irregolari sono, possiamo considerarli ormai 500 mila più o meno, che nessuno espelle perché costa troppo caro, ma vivono sostanzialmente in una situazione di irregolarità, quindi fanno molto disordine. La sintetizzo in un attimo, perché Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, ha sintetizzato questa strategia di Renzi, fa la voce grossa con l'Europa fino al 5 dicembre, c'è questo sospetto secondo lei? Ma secondo me poi a una mediazione bisogna arrivare, questo è sicuro, perché l'alternativa è che l'Europa rimanga senza bilancio a partire da gennaio e si vada avanti di mese in mese solo sull'esercizio provvisore, il noto esercizio No, io volevo chiedere, lei è un europeista convinta da sempre, Artiero Spinelli è sempre stato, ma il fatto che, già ecco noi stiamo dicendo che è elettorale, anche questo fa la voce grossa, no qualcuno lo dice, che voce grossa vuol dire una cosa molto semplice, e cioè che l'Europa è stata talmente antipatica che per avere consenso bisogna fare la voce grossa sull'Europa, questo non la ferisce un po', cioè non pensa che sia anche un po' colpa dell'Europa probabilmente, di come è stata costruita e del fatto che si è presentata con un volto, non dico accattivante perché l'Europa non deve essere simpatica, ma insomma che abbia esibito il suo progetto senza tanta convinzione e quindi senza convincere gli altri Io credo soprattutto che l'Europa si è fermata a metà del guado e quindi rispetto a una serie di temi che preoccupano i cittadini proprio non li ha messi in comune, per esempio gli immigrati, la sicurezza delle frontiere, proprio gli stati membri hanno sempre rifiutato di dare questa competenza o altre all'Unione Europea, quindi abbiamo una moneta comune ma non abbiamo una banca di ultima istanza, abbiamo sempre una moneta comune ma non abbiamo una politica economica comune, sicché nel bel tempo andava tutto bene, appena è arrivato il temporale ci siamo accorti che non abbiamo un ministro del tesoro, che non abbiamo un bilancio e da questo scoramento invece di andare avanti la tentazione è torniamo indietro, ognuno torna alla sua nazione e poi da lì alla sua regione e poi da lì al suo sindaco, fino a chiudersi in casa alla fine ci chiudiamo in casa. Il tribalismo. Esattamente, per cui la mia posizione è che proprio perché così non è possibile, ma stava scritto, bisogna andare avanti. Quello che invece si è ingenerato non avendo nessuno avuto il coraggio di dire no, serve di andare avanti, in realtà stiamo tornando indietro. Se lei guarda ad esempio sulla crisi economico-finanziaria, tutte le iniziative che sono state prese sono tutte a livello nazionale, salvo Mario Draghi. E quindi si è ingenerato questa cosa che sarà molto difficile da, come dire, ribaltare, anche se a mio avviso è assolutamente necessaria, perché l'ognuno da sé, l'ognuno da sé, non andiamo da nessuna parte. Posso fare il labate, che fa delle domande dirette? Assolutamente. E le ha dato un po' fastidio quella bandiera dell'Europa che il Presidente del Consiglio ha nascosto in un suo comunicato tenendo solo le bandiere tricolori? Ma secondo me è un errore, perché appunto io invece ritengo che bisogna riprendere con più forte il racconto. Sì abbiamo dei limiti, sì abbiamo fatto degli errori, ma bisogna andare avanti verso quello che io chiamo per farmi capire agli Stati Uniti d'Europa. E l'Unione d'Europa magari non si occupa più delle banane, diciamo per così dire, ma si occupa di non avere più 28 eserciti che servono veramente a poco o una politica estera comune. Quindi molte cose ormai il mercato unico al fatto le possiamo anche togliere, ma i grandi temi che fanno un'unione... Quindi sicurezza, difesa, politica economica unitaria? Se voi guardate gli Stati Uniti cosa hanno in comune? Hanno un bilancio più o meno del 20%, più o meno. Hanno una politica estera, una politica di difesa e poco altro, tant'è che se voi guardate, per noi è impensabile, gli Stati per esempio qualcuno ha la pena di morte e altri invece non ce l'hanno. Il sistema federale non è quello del grande Stato, che nessuno ha mai voluto, Spinelli per primo, ma quello di un'unione sulle materie che se si fanno insieme sono più efficaci. E sono poche poi alla fine. Ma il fatto che gli Stati Uniti hanno un bilancio, diciamo, spese militari, gli Stati Uniti da sole hanno le spese militari che sono il doppio di tutte le spese militari dei singoli quasi, dei singoli Stati dell'Europa. E anche questo, cioè non è che un esercito comune, insomma, le cose in comune costano. Cioè siamo disponibili per avere una politica estera credibile, anche di avere investimenti. Ma non c'è neanche la politica estera comune, come lei vede, prenda la Ligia, prenda lo sconforto, cioè la contrapposizione all'interno di paesi europei è molto evidente. Quindi non c'è neanche quello. Abbiamo una moneta, abbiamo la politica di concorrenza, abbiamo la politica commerciale, finora poi vedremo. Ma manca, diciamo, i punti fondanti di quello che fa un'unione politica. E su quello ci siamo arrenati, perché l'euro è stato un tale successo per dieci anni che... Che poi ha mostrato, diciamo, l'altra faccia. Intanto facciamo la moneta, la politica seguirà, è stato un tale successo per i primi dieci anni che la politica non è seguita. Lei ha citato l'America, glielo voglio chiedere direttamente, perché anche in ambiti intellettuali progressisti si discute, dopo la vittoria di Trump, dell'odierno valore assoluto che avrebbe o non avrebbe la democrazia. Addirittura le chiedo, a lei l'America di Trump fa paura oppure no? Diciamo che io consiglierei un po' più di umiltà a me stessa e a tutti, sulle previsioni su che cosa succederà, perché francamente non ne abbiamo azzeccata una da quelle che sbagliando poi abbiamo chiamate, sono state chiamate le primavere arabe, perché nessuno ha visto venire, nessuno ha visto venire l'aggressione russa in Crimea, nessuno ha visto venire l'estensione gulenista e quindi la reazione turca, Brexit non l'ha vista venire nessuno per carità e Trump neppure. Quindi secondo me un po' di calma e riflettere perché le sbagliamo tutte. Secondo lei perché le sbagliamo tutte? Secondo me perché, parlo della mia esperienza arabo, perché parliamo solo all'establishment, tutti i nostri inviati siano giornalisti, politologi, sondaggisti, ambasciatori, insomma. Noi, parliamo tra di noi, a noi e tra di noi. Parliamo solo con l'establishment che parla inglese peraltro, nessuno si azzarda a studiare l'arabo e a dare un'occhiata, perché mi è stato utile a capire, certo non potevo dire cosa succedeva nel 2011, ma che bollisse una roba tipo pentola a pressione senza valvola di sfogo, questo da radio radicale ho cercato di dirlo inutilmente per qualche anno. Quindi la mia impressione è che le sbagliamo perché se parliamo di Brexit ci fermiamo a Londra, se parliamo di Stati Uniti ci fermiamo alla costa est o alla costa ovest e forse un pochino invece, credo anche chi fa il mio mestiere, un pochino più di attenzione, insomma alla fine questi centri studi anche più prestigiosi, Carnegie, non so che, insomma alla fine non è che hanno aiutato molto. Ma la sua prima reazione la notte delle elezioni, quando ha visto che Trump vinceva, dica sinceramente, no, mi dispiace, a me dispiace molto, nel senso che con tutti, perché intanto io sostenevo Hillary Clinton, perché credo che nessuno è perfetto, ma che essere un po' competente sulle materie che uno va a trattare non è proprio, non guasta, quindi Hillary è una che è passata la Cada Bianca non da turista, che è stato segretario di Stato, uno può essere d'accordo o non d'accordo, però insomma certamente, e quindi mi è dispiaciuto moltissimo. Però proprio per questo era considerato un pezzo di establishment, proprio per queste cose che per lei sono di un buon curriculum, invece per una parte del elettorato americano è stato di potere. No, no, lo capisco, però io sono anche molto resistente a seguire questo Bud che sta diventando una specie di internazionale populista, no, di qua e di là dall'Atlantico, con magari alcune caratteristiche diverse, che ne so, tra la Francia e l'Ungheria, ovviamente. Certo, per fortuna. Però c'è in costruzione, secondo me, una specie di internazionale populista che al di là delle poche differenze, però di fondo ha gli stessi… Poi un internazionale nazionalista non se l'ha mai vista. Eh no, ma è un po' così, per esempio è un fenomeno che potremmo studiare meglio, ma non per accarezzarlo, per seguirlo. Guardi che io penso, vado a dire, guardate, capiamo le ansie, eccetera, ma la ricetta che queste vi propongono è destinata a fallire, perché non è chiudendo, rinunciando il commercio internazionale, spellendo 3 milioni di immigrati, non è questo che vi farà cambiare il tenore di vita, anzi temo il contrario. Però posso chiedere se l'errore della classe politica, in alcuni casi anche di governo, che si riconosce nelle famiglie tradizionali del Novecento, penso al PD in Italia, ma anche altri partiti altrove, che formalmente sulla carta europeista non sia quello di inseguire, soprattutto in quei temi, lo dicevo alla domanda che provavo a farle prima, quando parlavo di questa contrapposizione tra Renzi e l'Europa, ma se ne sono viste anche in altre chiavi in Spagna, in Gran Bretagna, in Germania, che la classe politica che di fatto è europeista e non populista, stia troppo inseguendo il populismo sul suo stesso terreno, e parlo anche dell'Italia. No, no, ma è quello che le stavo dicendo, è che secondo me è un errore, non perché non bisogna parlare con gli elettori, gli elettori sono i cittadini, ma rispetto alla classe dirigente io non credo che bisogna essere così compiacenti. Chiarissimo. Penso che alcune cose, e quindi per esempio sull'Europa bisogna chiaramente dire va riformata, ma va riformata nel senso di andare avanti, non nel senso di andare indietro. Questo, nessuno vuole l'Europa così com'è, perché è inadeguata. Certo. Il problema è qual è, allora, andiamo avanti nella costruzione, oppure ognuno torna a casa sua in una specie di autarchia. Chiarissimo, molto chiaro. Alessandra Dacchi, su questi temi, Europa e Stati Uniti, ci sono delle domande del Napolino? C'è una richiesta di una previsione, la deriva anti-europeista, avrà la meglio in Italia, secondo lei? Ma secondo me non è un destino, dipende l'assunzione di responsabilità e di messaggi chiari che chi ne ha la responsabilità, e non parlo solo della politica, intende dare ai cittadini, perché l'opinione pubblica non è un dato statico, è un dato dinamico, reagisce anche all'informazione che dai, se tu continui a ripetere che gli immigrati sono un'invasione, che ci rubano il lavoro, che usano il nostro welfare per eccetera, eccetera, se te senti solo questo, tutti i giorni, tutte le sede… Però, scusi, questo è una parte della protesta anti-europeista, poi c'è un'altra parte che secondo me viene anche fatta proprio, lo diceva anche Tommaso, da una parte dell'establishment e dallo stesso Presidente del Consiglio, perché quando il Presidente del Consiglio dice, martella su questo tema, l'Europa dei burocrati, dei teclocrati, preferiamo difendere i nostri bambini, delle scuole, oppure noi figuriamoci se per noi è prioritario le spese del terremoto e non… cose… ecco, non vede l'Europa come una specie di conventicola di malvagi che non vogliono… e capisce cosa voglio dire, anche nel lessico c'è questo… che poi queste cose che magari vengono fatte dal punto di vista della semplificazione del linguaggio, diciamo così… per usare il neofemismo… poi mettono radici e sradicarle è molto difficile, perché mettere radici trovando il capro espiatorio, in questo caso l'Europa oppure, che ne so, qualche altra… Germania… e questo sarà molto popolare… piccolo dettaglio, si dice che i movimenti populisti in Europa nascono come protesta contro l'austerità, negli Stati Uniti non c'era la politica dell'austerità, cioè Trump ha vinto non perché ci fosse l'euro cattivo, la Merkel o così… No, ma infatti le motivazioni sono sempre come dire per sentito dire e fanno più appello alla pancia che alla testa… se però continuiamo… però… l'esercizio di dagli a Bruxelles non è nuovo di Renzi… Certo… di se qualcosa è duro o va male è colpa dei burocrati di Bruxelles e se qualcosa va bene è un successo della capitale, è un esercizio che dura da sempre, secondo me è molto pericoloso e mi spiace che ogni tanto Renzi lo usi, perché il problema su cui ci fanno riflettere i nostri amici europei, al di là che io non sono una fanatica dell'austerità, ma dei conti in ordine sì, è che noi abbiamo un debito pubblico che abbiamo accumulato negli anni 80 e 90… E che continuiamo ad accumulare a quanto pare… E che continuiamo a accumulare… Beh, però abbiamo risparmiato 12 miliardi, abbiamo visto gli ultimi dati di oggi… Sì, sì, ma questo va tutto bene… Su mille… Sì, sì… Sì, ma gli interessi del debito… Una battuta di Battista questa… Ma gli interessi sul debito quest'anno sono 74 miliardi, cioè fa tre finanziarie… Tre finanziarie praticamente… Allora, se non riusciamo… Ed è chiaro che è uno strumento che i colleghi europei usano… Usano non sempre, perché non è che la Francia non ha debito pubblico… Per chiudere questo argomento, posso chiedere se secondo lei questo modo di fare… Adesso parliamo di Renzi, ma non è solo di Renzi… Comune di chi viene, diciamo, formalmente da partiti e sostiene europeisti… Non rischia, diciamo, di far prevalere alla fine gli altri movimenti populisti… In omaggio alla vecchia regola che è inseguire, diciamo, uno su un suo terreno… Poi uno sceglie sempre l'originale, non la copia… Ma è questo che stavo dicendo… Perché poi la gente non sceglie la copia, sceglie l'originale… E secondo me per questo è proprio un errore politico… Perché poi tornare indietro e riappassionare, diciamo, al progetto europeo i cittadini… Verrà molto difficile… E come rimettere il dentifricio nel tubetto una volta uscito… Eppure non abbiamo scelta… Badate che al di là dei confini europei più o meno riformati… Non è che c'è le magnifiche sorti e progressive… C'è 28 staterelli, diciamo… Certo… Compresa la Germania, rispetto al panorama mondiale… Che non avranno nessun potere di dire niente a nessun tavolo… Rispetto, che ne so, ai cinesi piuttosto che agli indiani… Piuttosto che… Quindi… Insomma, mi preoccupa perché è pericoloso… E… Pigi, vogliamo cambiare… Vogliamo dare pagine, avvicinarci alle cose nostre? No, volevo allontanarmi un secondo… Ah, prego, prego… Visto che Mabonino, appunto, queste cose le conosce bene… Perché noi abbiamo un'idea che Trump, essendo un po' guascone, così via… Che anche la politica estera americana possa essere, diciamo, tipo aggressiva… Mentre invece può essere anche diverso da così… L'alleanza… L'alleanza… L'avvicinamento con la Russia, eccetera… Non può essere invece un fattore di forza rispetto all'ISIS… Cioè, un elemento di ordine… Tutto è possibile… Secondo me tutto è possibile… Naturalmente vai passando completamente l'Europa che verrebbe cacciata via… Certo, quello si è cancellata da sola… Stati Uniti e Russia… Stati Uniti e Russia… Ma io penso che, come dicevo prima, starei un po' a vedere… Certo, seguendo con preoccupazione, se vogliamo… Certo… Anche perché, a mia memoria, quasi nessuno ha applicato una volta eletto il programma elettorale… Non è uno sport molto in voga, nessuna parte… Se voi ricordate… Ma persino Mitterrand, se lo ricordate… Come, la nazionalizzazione… Eccetera, eccetera… Per cui, sarà molto indicativo però vedere chi sarà scelto a fare il segretario di Stato… Cioè, le persone di cui si circonderà… Dice Rudolf Giuliani… Dice Rudolf Giuliani… Questa è la voce che corre… Quindi io, diciamo che da questo punto di vista ci terrei molto di più che noi facessimo il nostro mestiere… Invece di andare in giro a predicare ad altri… Il problema è che non facciamo neanche il nostro mestiere… Mi avvicino io a casa nostra… C'è stato… Si è celebrato recentemente l'ennesima assise congresso dei radicali… Che per fortuna fanno ancora dei congressi… Ma alle cronache è passata questa spaccatura… Diciamo anche personale… Rispetto a un gruppo dirigente… Che non ha… Sembra diviso… La cui uscita di scena… Diciamo… La morte di Marco Pannella… Non ha sanato delle rotture che c'erano… E glielo chiedo proprio brutalmente… Non teme che una creatura come la vostra… Che ha scritto delle pagine importantissime nella storia di questo paese… Sia destinata all'estinzione… In una politica in cui giganti… Si sfidano a colpi di populismo… I radicali sono sempre stati a rischio di estinzione… Io ricordo delle campagne… Quelle dei 10.000 o dei 30.000 esattamente… Per tentare di riuscire a portare avanti le nostre iniziative… A me quello che sta succedendo… Che dispiace moltissimo… Mi sembra però alla scomparsa di Marco… Questa grande personalità eccetera… Non direi il minimo sindacale… Una cosa che ci si poteva aspettare… Una cosa che ci si poteva aspettare… Mi pare così… Quello che mi dispiace è se questo blocca invece lo slancio su temi che sono… Perché il referendum non è un referendum… Noi il problema dell'immigrazione ce l'abbiamo qua… E ce l'abbiamo da risolvere… I problemi dei diritti civili fermi… Dalla morte dignitosa… Alla legalizzazione della cannabis… Siamo sempre lì… Quindi c'è spazio per tutti… E mi dispiace l'astio… Anche il livore con cui almeno una parte… Tratta radicali italiani… Piuttosto che l'associazione Coscioni… Perché mi sembra inutile… Controproducente… Non capisco neanche l'obiettivo… Però spero che sia un momento che passa… E l'unica cosa che ci può pensare di far superare questo… È la politica… E le iniziative politiche… E su questo… Mi pare… Dobbiamo concentrarci… La morte di Marco Pannella… È arrivato nel momento in cui… Dal punto di vista politico… Il vostro sodalizio… Per come ha raccontato… Era molto… Molto distante… Le cronache hanno raccontato anche di… Le cronache… Lo stesso Pannella… Ha raccontato anche di una distanza… Dal punto di vista umano… C'è qualcosa che le è dispiaciuto… Della fine… Dell'ultimo capitolo di questa storia… Mi è dispiaciuto tutto… E… Però non ne voglio parlare… È troppo presto… Va bene… Ma posso chiedere semplicemente… Perché per voi il personale è anche politico… No… Se si è pentita lei di qualche cosa… No… Ma il privato non è pubblico… Ah… Vabbè… Questa è una buona risposta… Neanche se si è pentita di qualche cosa… Se ha qualcosa di cui… Da riproverarsi… Quasi tutti i giorni… Quasi tutti i giorni… Ma… Non su questo piano… Va benissimo… Battista… Aracchi… Beh… Inevitabilmente… Lo so… Che è un punto… Che non è che sia appassionante… Però è un fatto… Lei… Tra qualche… Un paio di settimane… O poco più… Ci sarà questo referendum… Diciamo… I toni… Non sono esattamente più… Moderati… Lei… Mi sembra di capire… Che ha fatto una scelta per il sì… Ma… Nell'ambito di un'iniziativa… Che ha unito tutti i radicali… Su cui il governo… Non intende… Neanche preso nota… E che… E di far notare… Che con la riforma… In realtà… Chi usa gli strumenti… Di democrazia diretta… O li vuole continuare a usare… Si trova di fronte a un cambiamento… Una riforma… Che alza le firme 800 mila… A base al quorum… 150 mila… Eh sì… Che abbassi il cuore mi fa piacere… Ma intanto deve arrivare a 800 mila… E in una situazione… In cui gli strumenti… Rimangono quelli del 1970… Ora per un governo modernizzatore… Se potesse evitare… Che ci far raccogliere le firme… Con la carta… Poi li porta a un ufficio… Per avere il certificato elettorale… Poi li prende… Li porta a un altro ufficio… Siamo al medioevo… Quindi avevamo chiesto di rivedere… Di modernizzare questi strumenti… Che poi i cittadini già usano… Non c'è stato verso di avere… Un minimo di risposta… Questo durante la scrittura della riforma… Ma anche adesso… In questi giorni… Da luglio in poi… Poi noi avevamo anche fatto la proposta del referendum act… Nel senso del spacchettamento… Che nessuno ha voluto considerare… Adesso molti lo rimpiangono… Perché avrebbe svelenito… C'è stata anche una sentenza del Tribunale di Milano… Avrebbe svelenito… Però anche un clima… Mi sembra un clima da rodeo… Certo… Come se fosse… Il giorno del giudizio… Il giorno del giudizio… Tra il medioevo e… E la fine del mondo… E la fine del mondo… Non ai tweet o al click… Ma degli strumenti… Però questo mi fa pensare… Voglio rimanere anche su questo tema… Anche solo un secondo… Perché uno degli argomenti più usati… Dal fronte del sì… Nel momento in cui c'è il fronte del no… Una parte del fronte del no… Che accusa il sì di una deriva autoritaria… È proprio quello che diceva lei… No, saranno molto più facili i referendum… Secondo lei quindi… In sintesi questa affermazione non risponde al vero… Non capisco a cosa si riferiscono… Credo al quorum… Al quorum ridò… Ho capito… Ma per arrivare al quorum… O sei una grande organizzazione sindacale… Che ha tutta una serie di… Ah, perché le firme vanno… Sì… Vanno… Raccolte di fronte a un ufficiale… Pubblico ufficiale… Poi si riferivano credo anche alle leggi… Alle leggi di iniziativa popolare… 150 mila adesso le firme che devi… E l'obbligo di Carmela… Allora… Tutto questo evidentemente non facilita… E questo governo modernizzatore… Un segnale di modernizzare anche la vita politica… Di piccoli gruppi o grandi gruppi o quelli che sono… Secondo me avrebbe fatto bene a darlo… Detto questo… Non sono un appassionato del Senato… Mi sembra abbastanza… Poi dipenderà dalla legge elettorale… Però badate che… Il titolo quinto… Cioè la restituzione al centro… Di alcune grandi competenze date alle regioni… Che sono diventate 20 centri di spesa… Come no… Francamente senza controllo… Hanno tolto il ministero della sanità e ne hanno fatti 20… Non è proprio da sottovalutare… Quindi radicali… Che è un partito democratico e libertario… Ognuno farà quello che ritiene… Personalmente ritengo che… Rimettere un po' d'ordine in questo federalismo… Diciamo… Certo… Mal riuscito… Mal riuscito… Può anche… Può anche essere utile… Quindi un sì senza entusiasmo… Ah questo è poco… Poco… Ma certo… Però ancora io… Siccome non mi arrendo fino alla fine… Continuo a sperare che qualcuno faccia capire al presidente Renzi… Che modernizzare un poco gli strumenti di democrazia… Fa bene al paese… Non è che fa bene a Emma Bonino… Che francamente non è questo… O a Riccardo Maggi… Ma è anche… Ma è anche uno strumento importante… Perché credo che questo prevedeva anche la nostra Costituzione… Invece siamo fermi al 1970 e non c'è verso di andare avanti… Quindi mi pare di capire sintetizzando che lei sostiene il sì… Nei termini in cui brillantemente Battista ha sintetizzato… Ma non pensa che la vittoria del no sia la fine del mondo… No… No… Ovviamente porterà dello scompiglio… Questo è evidente… Però non è il Medioevo e le future magnifiche sorti progressive… Ma un governo… Per il governo invece senza arrivare al destino cosmico… Però qualche problema… Se dovesse vincere il no… Ma è evidente… Per questo dicevo… Certamente ci sarà un periodo… Turbolento… 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 E di cui… Invece di affrontare altri problemi che davvero sono urgenti… Però… Insomma… Questo tono da rodeo… Io non credo neanche che faciliti poi la partecipazione… Se mi posso esprimere… Per quello che sento in giro… Ultima domanda… Lasciamo al pubblico e quindi ad Alessandra Racchi… Così si rispettiamo volare in maniera perfetta… Bravo… Grazie… Si è detto più volte che un erede del calibro di Marco Pannella nel partito radicale… Non c'è… Però… C'è qualcuno che comunque… Erede gola e minuscola… Che lei immagina all'interno del partito radicale? Ce ne sono parecchi per la verità… Quindi già non un lavoro… Poco conosciuto… Ma io trovo che… Marco Cappado piuttosto che Riccardo Maggi… Ma il lavoro che fa Rita Bernardini per esempio sulle carcere alla giustizia… Che è un patrimonio di tutti… Quindi io credo che ci siano… Sono anche più giovani rispetto alla mia generazione… Hanno forse meno esperienza istituzionale… Ma alcuni già ce l'hanno… Quindi non sono disperata di questo… Sono più disperata delle condizioni in cui le iniziative che noi portiamo avanti… Vengono veramente molto poco nella priorità dell'agenda politica… Mentre lei ce lo sono nei cittadini… Io sono andata nei funerali di Umberto Veronesi… Voi non potete dire quanta gente mi ha avvicinato sulla morte dignitosa per esempio… E quanto dobbiamo aspettare per poter morire dignitosamente senza dover andare in Svizzera… Quindi c'è secondo me una pulsione d'opinione pubblica sui nostri temi… Non c'è come priorità nella classe politica… Invece questa legge è seppellita… Sì… Nelle commissioni… Ne stanno esaminando… Anche quella sulla legge… No ma siamo fermi a… No ma questo… Lei si ricorda… No è meno seppellita quella… Sì meno seppellita… Ma comunque si intravede… Siamo fermi a… Diciamo alla volgarità sul caso Eluano in grado… Certo… Non è che abbiamo fatto passi avanti… Quindi… Abbiamo avuto una legge… Stiamo parlando di… Di otto anni fa… Di sette, otto anni fa… 2009… 2009… 2009… 2009… Avevo un'ultima piccola domanda… Visto che su questo si è fatta una riforma… Visto che le campagne radicali sul servizio pubblico radio televisivo… Sono sempre state molto importanti… La partitocrazia eccetera… Cosa pensate voi della riforma della RAI nel momento in cui c'è un pezzo di… Riforma… Riforma… Riforma della governance della RAI… Riforma della recente riforma della governance della RAI… Che il governo ha trattato come se fosse una riforma del riassetto radio televisivo… Nel momento in cui c'è un pezzo di classe politica… Praticamente tutto il fronte del no… Che accusa diciamo il PD di occupazione di Caselle… Ma devo dire che i dati sono all'attenzione di tutti… Noi non abbiamo più il centro d'ascolto… Che era così credibile… Era una specie di Cassazione… Ma… Nessuno ci ha dato retto manco all'epoca… Quindi l'occupazione della RAI è diciamo un esercizio nazionale… Che viene da lontano… Chiunque arriva… Prima ancora che inventassero la RAI… No, no… Sì, sì… Tutti peraltro appena arrivano dicono… No, no… La politica non deve entrare nella RAI… Fuori i partiti della RAI… Tutto questo già sentito… E poi nella sostanza avviene diversamente… La fermiamo noi ma benvenuto… Perché il nostro spazio è finito qua… La ringraziamo tantissimo… La rispettiamo presto… Grazie a P.G. Battista… Grazie a Sandra Lack… Buon pomeriggio a tutti… Grazie a tutti… La persona a… La persona aanzione ha scrittuli…